Ritrovati a coloro che ci stanno seguendo attraverso Facebook, siamo ancora nella nostra comunità per quello che è il nostro secondo culto, per una questione di spazio, di posti, dobbiamo fare più culti, però vogliamo ancora una volta rivolgerci alla parola di Dio e leggere insieme nel Vangelo di Matteo, capitolo 9, dal versetto 18. Mentre Gesù diceva loro queste cose, giunse uno dei capi della sinagoga che si inchinò davanti a lui, dicendo, mia figlia è morta ora, ma vieni, posa la mano su di lei ed ella vivrà. Gesù alzatosi lo seguì con i suoi discepoli. Al culto precedente abbiamo considerato un'espressione, Levi alzatosi lo seguì. Ora leggiamo nel versetto 19 Gesù alzatosi lo seguì. E vorrei soffermarmi proprio su questa frase. Levi che è lo scrittore E prima abbiamo letto, nel Vangelo di Marco, che Levi alzatosi seguì Gesù. Ora egli, come se stesse indicando un po' quella che è stata la sua esperienza di salvezza, quando ha deciso di seguire Gesù, lui che si è alzato e ha seguito Gesù, ora nota questo particolare, Matteo. Prima, ripeto, riguardava la sua esperienza per diventare discepolo di Gesù, ora nota questo particolare di Gesù. Gesù alzatosi lo seguì. Prima di considerare questo vorrei fare un'introduzione, come la possiamo vedere nel versetto 18. Mentre Gesù diceva loro queste cose, giunse uno dei capi della sinagoga, che si inchinò davanti a lui e disse Notate prima di tutto come Gesù parlava. Egli diceva loro queste cose. Benedetta e insostituibile parola di Dio. Soltanto Gesù, cari, ha parole di vita eterna. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Gesù parla. E ancora, Jairo, proprio perché Gesù parlava, andò a lui. E mi piace notare che quest'uomo, al di là della posizione sociale lavorativa, era il capo della sinagoga, come si accostò a Gesù, come si approcciò con Gesù. Dice, giunse e si inchinò davanti a lui. L'attitudine di umiltà, l'attitudine di fiducia, l'attitudine di fede, l'attitudine di rispetto di Jairo. E poi Jairo, dopo aver udito la parola, dopo aver manifestato la giusta attitudine nel rapporto con Gesù, fa una richiesta a Gesù. Notate. Mia figlia è morta, or ora, ma vieni, posa la mano su di lei ed ella vivrà. Questa fu la richiesta, questa fu la supplica, questa fu la preghiera di Jairo, e Gesù in risposta a questa richiesta, preghiera e supplica di Jairo, dice il verso 19, alzatosi, lo seguì. E questo ci fa capire tre cose. Prima di tutto, la disponibilità di Gesù. In secondo luogo, la possibilità data da Gesù. E infine, la presenza di Gesù nella casa. Prima di tutto, dicevo, la disponibilità di Gesù. Gesù era lì, presente. E proprio perché era presente, era disponibile. Gesù è qui questa mattina. Ma Gesù, fratello, sorella, è anche a fianco a te. Tanti siete sul vostro divano, sul vostro salotto, nel vostro salotto. Non lo so quanti stanno seguendo, seguiranno attraverso Facebook, ma il Signore in questo momento è qui, dove noi siamo riuniti, è a casa, con te, sorella, fratello, è con te che ci stai seguendo da chissà quale luogo e quale condizione. Gesù è presente. E quando Gesù è presente, ricordiamoci che Egli è anche disponibile. Ogni qualvolta noi troviamo la presenza di Gesù, ricordiamoci che questa va associata alla Sua disponibilità. Se Gesù è presente è perché è disponibile. E quando Gesù è presente è disponibile. E proprio perché Gesù è disponibile Egli rimane è presente. Gesù innanzitutto è disponibile verso tutti. Gesù non sceglie verso chi essere disponibile. Perché se dovesse scegliere, sapete, gli uomini fanno delle scelte verso chi rendersi disponibili. C'è chi si rende disponibile verso i più meritevoli perché perché magari ha un desiderio di un tornaconto personale. C'è chi si rende disponibile verso i più bisognosi perché sempre comunque c'è un tornaconto personale. Gesù invece è disponibile verso tutti. Non so quanti sono in questo momento gli abitanti della terra da quello che ho sentito più di sette miliardi. Pensate se i sette miliardi di persone in questo momento contemporaneamente si rivolgessero ci rivolgessimo a Dio egli riuscirebbe ad essere disponibile verso tutti quanti individualmente personalmente perché Dio Gesù è sempre disponibile è disponibile verso tutti non pensare che il Signore non sia disponibile verso di te ma io sono venuto meno ma io non lo merito oppure un altro pericolo forse ancora più insidioso ma io non ne ho bisogno in questo momento sappi che Gesù è disponibile verso di te perché perché ti ama perché tu sei prezioso ai suoi occhi perché gli desidera il bene della tua vita come era disponibile verso Jairo e disponibile verso di te ma Jairo lo meritava Jairo era il capo della sinagoga ma Gesù era disponibile anche verso la peccatrice colta in flagrante adulterio perché Gesù è disponibile verso tutti quanti nessuno escluso non soltanto Gesù è disponibile verso tutti Gesù è sempre disponibile verso tutti sapete qual è il numero del cielo perché il cielo ha un numero sì Geremia 33 3 invocami il giorno della distretta io ti risponderò e ti annunzierò cose gloriose è il numero del cielo è il numero del Signore è semplice 3 3 3 quello è il numero è semplicissimo invoca il Signore in qualsi quante volte sorelle fratelli faccio una piccola digressione una piccola pari quante volte ci capita nel cuore della notte di svegliarci svegliarci perché stavamo eravamo in una condizione di dormiveglia perché presi da un periodo difficile di preoccupazione di sofferenze di malattie di difficoltà che stanno magari stavano affliggendo la nostra vita e ci svegliamo nel cuore della notte ecco che la mente parte quando ci svegliamo nel cuore della notte la mente si mette in movimento e comincia a girare a girare fa dei viaggi inimmaginabili piuttosto che lasciare muovere la mente che ci porta chissà in quali meandri della difficoltà dei pensieri invochiamo il Signore e nel cuore della notte lo troverai disponibile perché colui che veglia su Israele non dormirà e non sonnecchierà egli è sempre pronto sempre disponibile verso di te non soltanto il Signore è disponibile verso tutti è sempre disponibile ma egli è disponibile per qualsiasi cosa qual è stato il primo miracolo che Gesù ha fatto durante il suo ministerio terreno non riguarda la figlia di Jairo non riguarda il figlio della vedova di Nain non riguarda Lazzaro ha trasformato l'acqua in vino sembra quasi che Gesù abbia iniziato il suo ministerio terreno e con qualcosa così proprio di terreno di materiale perché ma al di là del tipo di miracolo va considerato verso chi era stato fatto il miracolo per una famiglia per una famiglia e qual è stato uno degli ultimi miracoli se non l'ultimo che ricordiamo nel Vangelo di Giovanni Gesù risorto quando invitò i discepoli a gettare nuovamente le reti dal lato destro mi piace questo dal lato destro perché le reti si gettavano dal lato sinistro non dal lato destro Gesù dice fate quello che vi dico io dal lato destro e lì c'erano sette esperti pescatori e poi quando arrivarono arriva trovarono del pesce del pane aveva fatto un altro miracolo come a dire Gesù insomma per quello che c'è bisogno è pronto a venirci incontro è pronto a intervenire è pronto a operare puoi avere bisogno di un grande miracolo Gesù è disponibile puoi avere bisogno questa mattina forse di un semplice incoraggiamento Gesù è disponibile non soltanto Gesù è disponibile Gesù alzato si lo seguì Gesù dà una possibilità Gesù alzandosi e seguendo Iairo stava dando a quest'uomo una preziosa possibilità qual'era la possibilità quello di essere di andare a casa di Iairo quello di essere accolto da Iairo sapete Iairo poteva dire come disse in un'altra occasione un'altra persona signore di una sola parola il mio servo sarà guarito Iairo poteva dire signore di una sola parola e mia figlia ritornerà in vita Iairo non si limitò a questo perché sapeva che Gesù era disponibile sapeva che Gesù era presente sapeva che Gesù non avrebbe disatteso la sua richiesta infatti la richiesta di Iairo a Gesù è stata precisa vieni posa la mano su di lei ed ella vivrà vieni e Gesù alzato si lo seguì fratelli è normale che noi ci alziamo come ha fatto Levi come dicevamo all'altro culto ci alziamo e seguiamo Gesù è normale ma è straordinario è glorioso che Gesù si alzi e ci segua pensate pensate fratelli e sorelle sapete che la fede può fare cose straordinarie notate Iairo riuscì con la sua fede a far alzare Gesù e a farsi seguire da Gesù Gesù se leggete il resto della storia vedete che a un certo punto una donna riuscì a fermare Gesù leggete il verso 20 ora ecco una donna malata da un flusso di sangue da 12 anni avvicinatosi di dietro gli toccò il lembo della veste perché diceva tra sé se riesco a toccare almeno la sua veste sarò guarita Gesù si voltò la vide disse coraggio figliuola la tua fede e altrove è detto che quella donna fermò Gesù Gesù si fermò oh la fede fa cose straordinarie o meglio devo essere un po' più preciso Dio in risposta alla fede fa cose straordinarie addirittura la fede porta Gesù a casa nostra se abbiamo fede Gesù si alza e ci segue e Gesù dice se aveste fede quanto un granello di senape voi potreste dire al monte sradicati e gettati nel mare e vi ubbidirebbe e se un monte inanimato metaforicamente in grado di fare questo in risposta alla nostra fede se noi andiamo a Gesù quanto più colui che ha lasciato la gloria il cielo ed è sceso fino a noi verrà a casa nostra voglio dire questa mattina signore vieni a casa nostra vieni a casa nostra Gesù che ascolta Iairo Gesù che acconsente alla richiesta di Iairo Gesù che arriva a casa di Iairo che bella questa espressione Gesù alzato si lo seguì Gesù che si alza il figlio di Dio il glorioso il meraviglioso e segue Iairo immaginate questa scena fratelli e sorelle Iairo che va davanti e Gesù che lo segue è normale se vogliamo la scena di Levi che lascia la gabella come dicevamo prima e segue Gesù Gesù che va davanti Gesù che è acclamato Gesù che parla Gesù che è onorato è dietro i discepoli è dietro i discepoli dietro a Gesù ma qui è qualcosa di straordinario Gesù che si alza e che segue Iairo a proposito dove sono i discepoli con i suoi discepoli erano dietro a Gesù li troviamo ancora troviamo Matteo Matteo alzato si lo seguì Gesù alzato si lo seguì con i discepoli c'era Matteo perché già Matteo aveva deciso Levi aveva deciso di seguire Gesù ed era dietro questa volta è Iairo che va davanti vogliamo vedere in Iairo il problema la difficoltà la situazione difficile la nostra famiglia il nostro matrimonio tuo figlio tua figlia vada davanti Gesù andrà dietro e tu quale discepolo vai ancora dietro perché Gesù verrà a casa tua Zaccheo scendi perché oggi vengo a casa tua Iairo mi hai chiesto di venire a casa tua vengo Gesù alzato si lo seguì andiamo alla presenza di Gesù a casa di Iairo leggiamo i versetti 23 24 e 25 dello stesso capitolo che non abbiamo letto prima quando Gesù giunse alla casa del capo della sinagoga e vide i suonatori di flau già stavano facendo il funerale avevano già iniziato il funerale senza Iairo avete notato? era iniziato il funerale fratelli e la folla che faceva grande strepido disse allontanatevi avete notato chi allontana Gesù? quelli che facevano il funerale in queste persone che facevano il funerale io ci voglio vedere i dubbi ci voglio vedere la disperazione ci voglio vedere la rassegnazione allontanatevi di questa mattina per fede nel nome di Gesù ai dubbi alle paure alle difficoltà alle tue sconfitte allontanatevi perché il re di gloria entra chi è questo re di gloria? il Signore dice il salmista perché la bambina non è morta come non è morta? noi stiamo già facendo il funerale immaginate la scena portiamola al nostro tempo una bara una bambina morta dentro tutti che piangono prima che chiudono prima che chiudono la bara e la portano alla sepoltura tutti lì arriva uno sconosciuto e dice allontanatevi non è morta ma dorme ed essi ridevano di lui da che piangevano sapete all'epoca c'erano persone che anche come mestiere erano i piagnoni sì perché in un funerale più gente piangeva più faceva strepito più faceva rumore più il morto era onorato allora siccome magari era un morto poco onorato allora pagavano queste persone come mestieri era una sorta di attori va venivano prezzolati e facevano e piangevano in questo caso non credo che ci fossero persone pagate era una bambina di 12 anni morta all'improvviso una situazione particolare la figlia di Jair un uomo stimato un uomo onorato poi arriva Gesù e questi che piangevano mi piace il contrasto non è morta ma dorme ed essi ridevano di lui prendevano in giro Gesù fratelli quanti ancora oggi prendono in giro Gesù come Gesù può salvare Gesù può operare nella mia famiglia Gesù può operare nel mio matrimonio sì non essere come Sara che rideva perché poi arriva Isacco e avrai di che ridere ma quando la folla fu messa fuori Gesù disse fuori fuori perché fratelli e sorelle Gesù non è venuto a fare spettacolo oggi se dovesse succedere una cosa del genere noi chiederemmo di mettere tutta la gente sopra immaginate se Gesù dovesse venire nel nostro locale di culto perché qui ci accingiamo a fare un funerale e siamo certi che Gesù fa ritornare in vita questa persona chiamiamo tutta la città anzi andiamo nello stadio a fare questo culto perché deve essere una cosa le tv nazionali locali tutti i social tutti i telefonini ognuno posta il miracolo in diretta perché ora Gesù fa il miracolo fa il miracolo Gesù non è venuto a fare spettacolo Gesù non è venuto a convincere le persone ma a convertire i peccatori non fa spettacolo perdonatemi la battuta forse un pochino pungente ma la dico come ce l'ho nel cuore noi uomini tante volte trasformiamo i culti e i locali di culto in luoghi di spettacolo dove l'attenzione deve essere messa sull'uomo e sul predicatore di turno ma non è così che fa Gesù non è così che fa Gesù la folla fu messa fuori egli entrò prese la bambina per la mano ed ella si alzò Gesù ci viene detto dai Vangeli compì tre miracoli dove delle persone morte ritornarono alla vita dice Giovanni che ne ha fatti tanti altri di miracoli ma ne riportano tre li ho già citati e in ogni miracolo dove dei morti sono ritornati in vita Gesù ha operato con la parola Lazzaro vieni fuori giovanotto alzati ragazza alzati la parola la parola Gesù quando arriva opera con la parola cosa ha fatto Jairo Jairo aveva chiesto qualcosa metti posa la mano su di lei prese prese la bambina per mano mettere la mano su di lei intendeva Gesù mettere Jairo scusate la mano sul capo della bambina Gesù non mette la mano sul capo della bambina prende la mano per la bambina fratelli sorelle che Gesù prenda per mano i nostri figli che Gesù prenda per mano la mia e la tua vita che Gesù prenda per mano la nostra famiglia che Gesù prenda per mano il nostro matrimonio e allora le cose cambieranno Gesù a casa Gesù che aveva seguito Jairo e se ne divulgò la fama per tutto quel paese Gesù aveva fatto un grande miracolo cosa aveva fatto Jairo di speciale di particolare la cosa più semplice che un credente possa fare invitare Gesù a casa vogliamo dire questa mattina signore vieni a casa nostra o se necessario perché Gesù è già a casa nostra con la massima libertà di azione di movimento rimani con noi e quando Gesù è a casa nostra succedono sempre cose straordinarie Gesù alzatosi lo seguì se non è meraviglioso Gesù ma chi è meraviglioso alziamoci rivolgiamoci al Signore grazie a tutti